Presso Innovab abbiamo testato una flotta di veicoli Euro 6 BC, autovetture di cilindrata medio-piccola, ben rappresentative del parco circolante GPL in Italia. Abbiamo verificato che le emissioni di particelle confrontando l'alimentazione GPL con quella benzina sono inferiori con l'alimentazione GPL e inoltre c'è una riduzione delle emissioni allo scarico di CO2 di circa il 10%. Tutti gli inquinanti regolamentati sono rispettati.